Siamo con il mister del Maccabi, vittoria veramente importante, oggi ho visto una squadra compatta, unita e che veramente ha saputo giocare molto bene in un campo molto... che è il vostro, oltretutto, quindi... Sì, oddio, non è proprio il nostro perché il nostro è il Trastevere, ma gentilmente ci ha ospitato l'Urbetevere per questa partita. Sì, siamo stati compatte, abbiamo giocato bene, un po' ritmi bassi il primo tempo, secondo me se avessimo accelerato un po' il passaggio e qualche movimento in più in zona offensiva avremmo sicuramente chiuso il primo tempo con qualche gol in più, bravissimi loro a crederci perché sono rientrati veramente molto ben determinati e hanno riuscito a pareggiare e stavamo anche rischiando uno svantaggio veramente in una manciata di minuti, poi secondo me la qualità è uscita fuori e abbiamo portato a casa un'altra vittoria. Voglio menzionare la prestazione di Max che si è sbloccato contro il Montagnola e nel secondo tempo ha fatto, oltre alla doppietta, ha fatto delle ottime giocate. Grazie mister e in bocca al lupo. Grazie a voi ragazzi.